ciao a tutti in questa serie di video vi parlerò di tinkercad un software di modellazione 3d geometrico gratuito che è molto adatto alla didattica soprattutto quella che si basa sull'approccio tinkering cioè dove i ragazzi imparano creando qualcosa l'ho scelto per alcune caratteristiche la prima è che è molto semplice da utilizzare e anche da imparare quindi questo lascia subito spazio al lavoro dei studenti e poi non secondo è molto divertente una volta che si inizia altra caratteristica importante è che contempla degli strumenti per gli insegnanti quali la gestione delle classi virtuali e poi c'è un'ampia sezione didattica dove prendere spunti anche se questa devo dire è in inglese anche se il software è abbastanza semplice si possono costruire anche dei solidi complessi questo lo rende anche adatto a varie fasce di età di studenti questi modelli poi possono essere esportati in software un po più complessi o addirittura in videogiochi quali minecraft o essere semplicemente stampati poi con stampanti 3d altra caratteristica positiva è che questo software è abbastanza leggero non ha bisogno di grandi risorse hardware non invece va installato perché si utilizza attraverso il browser per contro bisogno di una connessione internet continua però il fatto di non essere installato rende molto più agevole poi la gestione delle classi o delle aule informatica all'interno degli istituti o del lavoro a casa dei ragazzi perché i ragazzi fanno sempre fatica a installare dei software sul computer o gestire i file in maniera locale poi spedirli quindi questa è una serie di caratteristiche positive e oltre al fatto di poter avere un ambiente di modellazione 3d classico che adesso vi faccio vedere tinkercad vi dà anche altre possibilità questo è il classico proprio ambienti di modellazione 3d dove la modifica l'assemblaggio la duplicazione delle forme di base va a formare degli oggetti complessi spoilerone e queste immagini sono tratte dal tutorial principale del nostro corso a fianco a questo tipo di ambiente se ne trovano altri due il primo dei quali è questo è molto interessante perché come state vedendo in queste immagini attraverso una serie di blocchi di codice detti code blocking possiamo andare a far ripetere operazioni che spesso possono essere lunghe e noiose nella modellazione direttamente attraverso un programma quindi questo è molto interessante anche per chi vuole utilizzare tinkercad per coding un altro ambiente particolare invece è questo è questo ambiente dove si possono fare delle simulazioni di assemblaggi di componenti elettronici in questo caso qua come vedete una volta che si inserisce la spina dentro la nostra scheda arduino io ho creato un piccolo semaforo quindi è un ambiente di per sé molto completo un software ricco veramente di risorse e quindi direi proprio di andare a vedere e andare a conoscerlo in maniera diretta ecco questa è la schermata iniziale di tinkercad quando si arriva dal motore di ricerca se non fosse in italiano scrollate fino in giù e andate a cercare la lingua italiano qua vedete che dell'autodesk questo software che è la software house leader per questo tipo di applicazioni che non mi paga per questo anzi uso blender andiamo a vedere come registrarsi la prima volta bisogna registrarsi c'è il tasto registra ora in alto a destra ci si registra come insegnante nel nostro caso si accettano queste condizioni e si può accedere in tre modi vi consiglio sempre quello attraverso l'indirizzo email una volta che cliccate mettete la vostra nazionalità i vostri dati poi vi arriverà una mail da cui ci sarà un link da confermare e potete partire finalmente con il nostro tinkercad che si presenterà in questa maniera questa è la mia bacheca iniziale la vostra sarà meno ricca ovviamente di progetti precedenti però per il resto sarà identica andiamo ad analizzarla allora il tasto principale è questo in alto a sinistra quello con tutti questi nove quadratini colorati qua perché da qualsiasi sezione vi troverete vi porterà di nuovo nella bacheca iniziale poi analizziamo invece la riga orizzontale partiamo da destra questo è il logo dell'account dove potete creare nuovi progetti ma soprattutto potete andare a gestire il vostro profilo tra cui potete anche poi successivamente cambiare la vostra email la vostra icona e così via il tastino di ricerca lo guarderei insieme alla galleria andiamo a vedere invece la sezione insegna vi parlavo di una sezione didattica molto ricca di spunti ed eccola qui e qui ci sono suddivise in varie sezioni sono italiane in inglese ma in inglese molto semplice da poter tradurre per poi riproporre ai ragazzi una serie di risorse vi consiglio di andare a vederle non sto lì a presentarvele tutti tutte scusate e passiamo invece a una sezione simile anzi vicina che invece hanno anche i ragazzi questa serve appunto per gli studenti ma anche per i docenti che vogliono che affrontano per la prima volta che vogliono approfondire il software è formata da una serie di lezioni di progetti e potete scegliere se imparare il modello e l'ambiente 3d o quello dei circuiti quelli di blocchi di codice sono lezioni via via sempre un attimo più approfondite ce ne sono varie poi e sono fatte bene perché non sono video ma voi lavorate all'interno del vostro ambiente normale e vi appariranno solo delle indicazioni in sovra impressione vi consiglio di passare da qua inizialmente perché è un ottimo esercizio sempre tornando alla nostra barra superiore e c'è il blog che devo dire è sempre aggiornato anche ricco di spunti di iniziative e poi c'è la galleria la galleria funziona come una vera e propria libreria perché quando voi create un modello e lo salvate o meglio uscite che si sa perché si salva automaticamente potete scegliere nell'impostazione di renderlo fruibile alla comunità di tinkercad e quindi come hanno fatto questi ragazzi qua questa comunità questa libreria ogni volta si aggiorni si arricchisce potete vedere qua ce ne sono moltissimi di progetti quelli preferiti quelli più interessanti o semplicemente gli ultimi arrivati divisi tra progetti 3d o circuiti e potete sbizzarrirvi perché questi progetti potete prenderli tirarli dentro nel vostro tinkercad importarli lavorarci sopra o importarli come parti per cercarle è molto più facile andare nel tastino di ricerca quindi qui vedete potete scegliere progetti 3d se vediamo ad esempio robot vediamo cosa ci ho scritto anche un po' malino robot cosa ci propongo di queste serie di robot possono essere selezionate quello che vi piace di più e importate potete modificarlo o potete utilizzarlo come parte di un vostro progetto potete andare a vedere anche tra i circuiti quelli che riguardano la chiave di ricerca robot ne vedete alcuni o addirittura in questo caso persone non penso sì ci sono molte persone che si chiamano robot a forte anche il vigile robot e perché riguarda poi la parte superiore abbiamo quasi finito ma andiamo nella sezione che come insegnanti ci interessa di più quella della gestione delle classi eccolo qua qua vedete la serie di classi virtuali che ho organizzato ma che vedremo nel dettaglio nei prossimi video che saranno proprio incentrati su queste funzioni volevo per quello che riguarda la galleria farvi vedere anche qualche altro sito ad esempio questo è tingvers se ne sono molti online ma questo è uno dei miei preferiti dove qui potete trovare moltissimi modelli tridimensionali da scaricare e da importare in tinkercad quasi tutti possono essere importati in tinkercad un altro sito che voglio porre alla vostra attenzione è questo si fa scuola voglio ringraziare sonia monteggiove e antonio faccioli per l'ospitalità all'interno di questo interessantissimo sito dove si parla del digitale da utilizzare a scuola anche questo consigliatissimo siamo giunti alla fine della nostra presentazione è stata anche doverosamente un po lunga perché il programma è veramente ricco vi do appuntamento ai prossimi video dove ci addentreremo all'interno proprio del software ciao ciao